Bella Balordi, oggi qui con la recensione di B-Movie di Blobby, ennesimo disco MRGA ovviamente mi avete sentito fare la reaction a Cipriani, potete beccarvele in due parti qualche video più sotto oggi B-Movie appunto di Blobby, ok, troviamo tra i feat Johnny Gioielli, ovviamente Stocca, Mad Buddy in due tracce differenti, Gentle Tea e Armani Doc, Armani Milano produzioni, alcune di Gioielli, alcune di Departed Beats e poi ne troviamo una nell'auto, praticamente un'auto quella di Camouflage Monk, beh allora partiamo un attimo dalle produzioni già che ne sto parlando tutte bellissime, non c'è una prod che mi faccia schifo, secondo me sono tutte una figata assurda quella di Camouflage Monk è veramente spaziale, è la migliore del disco, ma anche tutte le altre sono veramente una bomba feat invece, devo dire la verità, non mi hanno entusiasmato Johnny Gioielli mi è piaciuto un sacco, soprattutto quella barra lì su Neffa, veramente figa comunque tutta la storia mi è piaciuta, Armani, prima metà della strofa mi ha un po' cringiato secondo me la metà ci sta, e gli altri tre, quindi Stocca, Mad Buddy e Gentle Tea che non conoscevo sì, hanno fatto strofe, non da cagare che facevano schifo, ma non mi hanno detto niente poi quando ho fatto quella barra sui Trapper, Madonna, Stocca mi sono cringiato Sfac, vabbè arriviamo alla parte principale del disco, ovvero Blobby beh, a me piace lui il suo tipo di rap che fa piace il suo timbro beh, c'è da dire, è un po' monoflow, cioè per quasi tutto sto disco, ma anche comunque la sua carriera sempre sono monoflow, a me non dà personalmente fastidio, cioè se cambiasse qualche flow mi farebbe piacere ma non dà fastidio quando devo valutare un disco, però comunque bisogna dirlo e devo dire il concept del disco mi faceva veramente, mi piaceva veramente un casino e tutti i riferimenti che Blobby ha fatto nei 40 minuti più o meno del progetto mi hanno gasato tantissimo qualcuno devo dire che non l'ho riconosciuto, però la maggior parte sì e devo dire che essendo un amante di queste cose mi ha gasato veramente tanto mi aspettavo leggermente di meglio non è un brutto disco, anzi è un bel disco, alcune tracce le ho messe in playlist mi aspettavo un po' di meglio da Blobby più che altro nel fatto della scrittura nella scrittura che comunque è figa per amor di Dio, però mi aspettavo qualcosa di più perché tralasciando i riferimenti non ci sono punch fighe, ti fanno saltare dalla sedia e peccato perché questo aveva le potenzialità per essere il miglior disco MRGA invece secondo me è inferiore, è leggermente inferiore a Pornostaria, Cipriani e circa sullo stesso livello di, no forse è anche un po' sotto anche a Young Bettino Story, Amoma, però comunque non è un brutto disco MRGA non è mai uscito un brutto disco, leggermente inferiore a quanto mi aspettassi però comunque figo, bella Blo, bella Johnny, bella comunque a tutti e vabbè le mie criticità le ho già esposte e ci vediamo in un prossimo video, bella